... Bentornati nella redazione di Telescopio. Dopo la notizia della sconfitta degli italiani e gli europei, va ora non dal servizio della nostra inviata Denise Foglini, che è andata per noi al Barignolo a fare un reportage sulla faunistica del luogo. Ed ecco poi in servizio. Un momento solo, abbiamo un attimo un problema tecnico, partirà subito al servizio. Ecco. Grazie Giacomo per la linea. Invece che fare quel servizio di merda sulla faunistica del Casentino, vi aspettiamo il 21 luglio al Barignolo by night. Banana! Grazie Giacomo per la linea. Come hai detto tu, oggi ci troviamo qui al Barignolo per esplorare la faunistica casentinese. Ora ci inoltreremo nel... No, no, no. Stoppa, stoppa, stoppa. Oh, passami una sigaretta. Sti servizi di merda tocca sempre a me a farli. Basta, basta, stacca tutto. Ce ne torniamo a casa. Ma che cazzo... Attacca quella cazzo di telecamera! Sono Denis Foglini, giornalista di telescopio. In diretta, qui per voi, un incendio al Barignolo sta distruggendo l'ecosistema circostante. L'adrenalina è alle stelle! Stiamo andando là per voi! 32 ore. Siamo arrivati qui... Siamo arrivati qui e... So solo una cosa. Ecco. So solo una cosa. Mi sono dimenticata. No, 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 no! Taglia, taglia, taglia! Ma porca f***a, bro, che fai! Ma voi, ma che cazzo ci fate? Barignolo by night! Barignolo by night! Barignolo by night! Salve, sono Troy McClure. Potete ricordarvi di me per altri video sulla faunistica casentinese, come andiamo in mezzo al bosco e canciare il fringuello a retino. Via! Ecco, siamo per arrivare su... Ha, 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 ha ve, sembra gollo a cantata, do� y Oui, RP, sono livelli a hears hiç du ohne può die affما CR and�� cap avere su aperta del 3002 conformi Ma che... Ma che ca... Maurià, ecco, lo sapete, un'altra volta stupiata di merda, ma guardate! Stop!